Saranno le liriche da camera di Giuseppe Verdi a suonare in quella che per anni fu una discoteca. Il Parco dell'Edriadi di Castellarquato, il 6 settembre alle 21, riaprirà le porte per una serata dedicata al maestro. Il concerto è organizzato dall'Associazione Centro Artistico Musicale San Lorenzo. Nasce per ricordare Giuseppe Verdi e le sue composizioni cameristiche, ancora oggi poco conosciute. È un nuovo evento, un nuovo appuntamento che è stato voluto e creato quest'anno. Giuseppe Verdi lo conoscono tutti, Castellarquato è un paese d'arte e abbiamo Illica, per cui questo legame della cultura e della musica tra lui e Verdi. Abbiamo creato un nuovo brand che è Arquato Classica e sicuramente sarà il primo appuntamento di tanti nei prossimi anni. Gianluca Feccia è il nostro organizzatore e maestro di musica, sono sicuro che sarà appassionante e appassionato. Noi siamo in una terra di confine delle terre verdiane, quindi siamo in Val d'Arda, ma nella media Val d'Arda. Verdi ebbe sicuramente modo di visitare Castellarquato e noi gli rendiamo omaggio con queste liriche da camera, che sono un repertorio inedito, un po' poco eseguito. Ci sarà anche un piccolo notturno per tre voci, Flauto, Obbligato e Pianoforte, del 1839, quindi nel periodo giovanile in cui lui era in un momento difficile della sua esistenza per la moglie, per i figli. Seguirà anche il preludio dei Masnadieri, che è un'opera anch'essa giovanile, del 1847, con la prima assoluta a Londra. E tutto questo sarà messo insieme da una voce narrante, il baritono e il divulgatore Simone Tansini, che appunto fungerà da collante fra i vari pezzi e introdurrà il pubblico in queste vicende musicali. L'ingresso alla serata è libero, la prenotazione è consigliata. L'ingresso alla serata è consigliata.